Lui dice diciamo che sempre Quello che hai fatto oggi Domani arriverà più peggio di questo Capito? Cioè sarà sempre peggio Parliamoci chiaro Sì Andrà sempre peggio Andrà sempre peggio Lui ci devono comportare italiani E io sono diabeta al 100% Possiamo rivedere un attimo il piede? Lei non mi può dire che un piede del genere Che il problema siano gli stranieri No No Questa è una cosa e quella là E lo so ma del resto noi Tutti questi trans dove li mandiamo? Al suo paese Oppure in Castralle Castralle e chiudole in un commento Come castrarli? Castralle come gli animali Diciamo che sono una persona Che comunque è libera nella mente E forse anche non completamente sana Non sta a me giudicare Perché se non mi crede è libera